Sono diverse le mostre ospitate nell'ambito della rassegna biennale di mosaico contemporaneo a Ravenna. Tra queste, spica quella dedicata alla scultura in mosaico, che trova spazio nelle sale del Museo d'Arte della città e che si potrà visitare fino al 7 gennaio. Ad un mese dall'inaugurazione della mostra, qual è l'andamento? Come sta andando? Beh, direi che la mostra sta andando molto bene, decisamente oltre le aspettative. Nel primo mese siamo arrivati quasi a 6.000 presenze e siamo molto soddisfatti. La cosa che più ci conforta è anche il riscontro che abbiamo avuto, non soltanto dai visitatori che escono tutti quanti molto contenti. Questa è una mostra interessante perché è una mostra che piace agli storici dell'arte e però piace anche ai bambini, perché è una mostra anche molto vivace, inaspettata. Molti sono ancora convinti che il mosaico possa essere soltanto mosaico tradizionale, quello bizantino-romano, e non si aspettano di trovare opere come quelle che sono esposte in questa mostra. Ed è una mostra che ha il merito anche di rendere omaggio a tanti artisti ravennati. Assolutamente, moltissimi artisti ravennati, c'è una grandissima presenza di questi giovani, anche mosaicisti ravennati, e devo dire che è anche un modo per valorizzare concretamente e seriamente le collezioni permanenti di mosaico contemporaneo.